Scuola di ballo.tv ha un nuovo progetto, un nuovo progetto dove anche Clady l'abbiamo coinvolto perché sicuramente lui è una persona molto attenta a questo, è dedicato alle apps, le apps che potete scaricare all'interno di tutti gli smartphone, specialmente tutti quelli che sono i Mac e gli Android. Le apps che potete vedere anche sui tablet, sia Mac che Android, sono delle applicazioni relative a quella che è l'attività di scuola di ballo o di scuola di danza, per cui relativa a quelle che sono gli eventi e le manifestazioni che promuove l'attività della scuola, ma anche quelle che possono essere i professionisti, i professionisti che svolgono ovviamente un'attività molto frenetica e hanno bisogno sempre di avere sotto controllo quelle che possono essere le attività di comunicazione e grazie a Clady avremo la prima applicazione fornita a un professionista di un livello veramente molto alto. Perché lo dedicano a me il primo, io sarò molto, anzi sono molto orgoglioso, sono molto vicino alla tecnologia, oramai sono un, come si dice, iphonista da tanti anni e insomma già passo gran parte del tempo a twittare, a facebookare e ci sarà il momento dove avrò la mia app personale, sicuramente è anche un punto di credibilità verso i ragazzi, i fan, per cui per tutti i fan avete la possibilità tra pochissimo di scaricarvi l'app di Clady, dove troverete le fotografie, i video e tutti gli eventi che sono in programmazione per quanto riguarda Clady, per cui Clady aggiornerà questa app e voi sarete aggiornati anche giornalmente, per cui avrete le comunicazioni sia via facebook, via twitter, dove Clady è presentissimo e in questa app scaricabile su tutti gli iphone e tutti gli supporti android avete la possibilità di essere collegati direttamente con Clady. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi, scuoladiballo.tv